In buona fede ha chiesto a due nordafricani di tinteggiarle casa. Una piccola abitazione a Tiene in via Marconi, ereditata dai genitori. I due, approfittando del sopraluogo, hanno occupato, non uscendo più dalla struttura. La legittima proprietaria, si chiama Tiziana, disabile e affetta da diverse patologie, faceva affidamento sull'affitto di quella piccola casa per garantirsi una vita dignitosa. Nelle scorse ore l'associazione Prima Noi ha tentato di far sloggiare gli occupanti senza riuscirci e oggi sono andati a raccontare il tutto ai carabinieri. Adesso andiamo lì in caserma perché vogliamo ovviamente confermare quello che abbiamo detto sabato scorso, cioè che se entro una settimana non viene chiarita questa situazione, noi torneremo lì davanti all'abitazione. La versione dei nordafricani è che la donna fa pagare un affitto e non vuole fargli un regolare contratto. Noi siamo tornati anche ieri mattina per chiedere i documenti a questi signori, ma non ce li hanno dati neanche ieri mattina. D'altorno ai documenti a quanto pare non ce li hanno e quindi se questi signori non hanno i documenti, come possiamo noi anche fare denuncia nei loro confronti? Come possiamo eventualmente fare un contratto per regolarizzare la situazione? Non si può perché non ci danno i documenti. Il colmo è che ora un giudice ha imposto almeno a uno dei due l'obbligo di dimora. I nordafricani sono già conosciuti dalle forze dell'ordine. Sarà sempre più difficile quindi procedere con lo sgombero della casa. Se il giudice ha stabilito che devono rimanere all'interno di quella casa di notte, fino al processo, significa che per 5-6 mesi da lì non si possono mandare via. È stata beffata, bisogna essere sinceri del tutto, lei in buona fede, si è fidata, ha peccato di ingenuità, ha aspettato evidentemente anche troppo tempo per denunciare questo abuso che ha subito.